Accordi che non piacciono ai 5 Stelle, che vanno all'attacco. È inaccettabile che Renzi e Berlusconi si spartiscano poltroni tanto importanti presentando anche degli impresentabili. Noi diciamo fuori nomi, noi vogliamo votare i migliori per tutti e non i migliori per i partiti. Su consulta e CSM poteva esserci il rinnovamento, dice Scott Osell.